buongiorno ciao a tutti buongiorno finalmente vi diamo una bella notizia apriremo a breve pure canale scusate che mi ha ripreso fino adesso canale canale non è che la pagina è quella di instagram seguiteci canale di youtube seguiteci su instagram 95l trattino basso over food trattino basso gym su youtube ci saranno video più o meno come su instagram dipende dipende un po più carini tra qualsiasi tipo di genere da differenziare da instagram e porteremo in collaborazione porteremo sfide porteremo challenge porteremo in primis un nuovo gioco si non gli diciamo niente ecco bravo non dicevo niente ma penso che saremo i primi a averli fatto no può darsi non lo so può essere che qualcuno l'abbia anche già fatto un po diversamente però so che qualcuno l'abbia già fatto seguiteci schiacciate like e con questo iscrivetevi al canale di instagram iscrivetevi al canale youtube come tira e con questo volevamo solo avvisarvi che a breve sarà disponibile anche il nostro canale youtube no ma vi salutiamo con una piccola peste che siamo andati a passeggio eccola tra un po più grande che però non si può prendere in braccio perchè pesa un po di più e con questo vi salutiamo ci vediamo al prossimo video ciao ciao iscrivetevi se mi iscrivetevi vengo a prendere a casa guai tutti a casa vostra a prendervi siamo guai tutti a casa